E se facessimo a meno dei mercati finanziari? Insomma, è un po' questa la domanda quando si sente parlare di crisi dei mercati finanziari e tutti i disastri che sono stati fatti, dalla bolla.com del 2001 alla crisi finanziaria del 2008 fino agli ultimi eventi che sono successi e che abbiamo anche commentato qui su WhatsApp Economy tra cui Bill Wong che con le sue azioni sconsiderate ha messo panico all'interno delle più grandi banche di investimento mondiali. E quindi il dubbio è legittimo. E se senza i mercati finanziari stessimo meglio? Per rispondere a questa domanda innanzitutto bisogna capire qual è la funzione dei mercati finanziari all'interno di un sistema economico. E chi fa questo tipo di lavoro, se lo fa bene con una determinata filosofia, di fatto il nostro scopo non è solamente quello di far crescere il denaro delle persone che investono con noi. Ma noi quando andiamo a investire andiamo in delle società che crediamo che possano crescere. Quindi i soldi che noi prendiamo dai risparmiatori e andiamo a investire in queste società qua, per noi sono società meritevoli. E quindi diciamo, in un qualche modo noi siamo anche quelle persone che danno una sorta di spinta a quella che è l'economia reale, ok? Perché vanno a investire sull'azienda di Mario Rossi che produce N cose e che secondo noi può produrre e può portare qualcosa di interessante. E lui era Jacopo Massey e fa parte di Acome ASGR, un fondo di investimento. E Jacopo gestisce anche un'app di risparmio che si chiama Gimme5, che è anche lo sponsor di oggi. Gimme5 è sostanzialmente un salvadanaio digitale che ti permette di risparmiare una parte dei tuoi soldi mese dopo mese. Sappiamo quanto sia duro risparmiare perché richiede impegno, costanza e buona volontà, ma grazie ai meccanismi di gamification e di Gimme5 tutto ciò è reso molto più semplice. Tra l'altro è possibile risparmiare addirittura da 5 euro alla volta e ciò consente alla gente anche meno esperta di potersi approcciare a questo mondo del risparmio e della finanza personale. Ma Gimme5 non vi fa solo risparmiare ma anche investire i vostri soldi, in quanto ovviamente il vostro nemico numero uno, quando si va a risparmiare, è proprio l'inflazione. E quindi andando a investire in uno dei loro fondi comuni di investimento, si salvaguarda anche il vostro risparmio dal costo dell'inflazione. Ho anche un codice sconto per voi, cioè Economy5, che vi permetterà durante l'iscrizione di ottenere 5 euro di bonus e ovviamente mi potrete sostenere in questo progetto di divulgazione economica. Ma torniamo a noi, infatti qualcuno mi potrebbe dire, eh vabbè ma è lo sponsor e in più operano nei mercati finanziari e non vuoi che non ti dicano che i mercati finanziari siano buoni e giusti? In realtà se andiamo a vedere la letteratura economica questo fatto è abbastanza concorde, cioè che un sistema finanziario sviluppato ed efficiente incentivi la crescita economica di un paese. E Gimme5 non l'ho di certo chiamata a caso, in quanto all'interno dell'app c'è tutta una sezione dedicata all'educazione finanziaria, in quanto pensano che un buon risparmiatore sia il risparmiatore consapevole. La nostra missione è far sì che si crei una generazione di persone che cominciano a risparmiare, a risparmiare in maniera smart. Che poi lo si faccia con Gimme5, bene per noi, siamo felici perché crediamo nel nostro servizio prodotto. Se lo fanno con qualcun altro, comunque abbiamo fatto qualcosa di positivo per il sistema. Noi abbiamo digitalizzato tutto, abbiamo dato la possibilità a chiunque di cominciare, ovviamente creando, come dicevi te, una sorta di percorso in autonomia che li permette di crescere in maniera consapevole. Infatti all'interno puntiamo moltissimo anche sull'educazione finanziaria, noi cerchiamo di scrivere o di rilasciare articoli e tips quotidiani, barra settimanali, in cui proprio si cerca di dare delle buone ragioni su quello che è il risparmio e l'investimento, senza usare dei termini troppo complicati, ma diciamo con un taglio alla portata di tutti. Quindi sostanzialmente è quasi impossibile vivere senza i mercati finanziari, in quanto svolgono una funzione di sostanzialmente apparato circolatorio del sistema economico, e quindi portano delle risorse in più da alcune persone ad altre persone che hanno bisogno di queste risorse economiche per investire e creare crescita economica. Se ci pensiamo bene, in effetti, far a meno dei mercati finanziari è un po' quello che è successo durante la crisi del 2008. Infatti dopo il trigger iniziale dello scoppio della bolla immobiliare, sostanzialmente i mercati finanziari si sono congelati, le banche non hanno più dato credito alle imprese e da qui è scaturita tutta la crisi economica che noi conosciamo bene. Tra l'altro molti osservatori pensano che il mercato finanziario italiano sia poco sviluppato e che le imprese italiane abbiano poco accesso a questo mercato, e tutto ciò comporta una probabilità minore di crescita economica delle imprese e quindi dell'economia reale intera. Ma allora, se questi mercati finanziari sono così fondamentali, perché c'è così tanto odio dell'opinione pubblica nei loro confronti? Diciamo, come in ogni cosa ci sono delle mele marce, no? Però le mele marce spesso e volentieri creano molto più risalto rispetto a quelli che si comportano bene. Ad esempio, adesso non vorrei buttarmi nella religione, ma è la prima cosa che mi viene come esempio. Le persone che si fanno saltare in area in realtà sono super estremisti, però per quella religione ci sono tutti gli altri, quindi il 90% della popolazione, che invece pratica in una maniera più che normale, più che onesta e che non dà fastidio a nessuno. La finanza è un po' così. Purtroppo si sono creati dei casi durante gli anni che hanno portato astio, perché spesso e volentieri succede che si vengono innescate delle crisi o delle cose da magari n soggetti che utilizzano la finanza in una maniera errata. Perché la finanza, come ho detto prima, è uno strumento che permette di portare delle risorse da chi ne ha a chi non ne ha, che gli servono per poter creare qualcosa, ok? Se io ho un milione di euro e non so cosa farmene, e tu invece stai fondando un'azienda con un'idea interessante, eccetera, perché mi devo ottenere quel milione? Ho bisogno di qualcuno che veicoli questo denaro a te. Questa è la finanza, questa è la finanza che funziona bene, perché poi tu fai partire la tua idea, la cosa va bene, assumi altre 100 persone, quelle 100 persone avranno uno stipendio, eccetera, eccetera, consumiranno, ho capito, questo è il ruolo della finanza, ok? Far partire l'economia, mentre purtroppo, spesso e volentieri, ci sono dei casi in cui la finanza viene utilizzata in una maniera errata e questo ovviamente fa molto più risalto rispetto a quello che viene fatto normalmente, che è quello che ti dice prima io, quindi una finanza fatta bene. Mele marce quindi, secondo Jacopo, ma chi potrebbero essere queste mele marce? Per scoprirlo vi leggerò un piccolo paragrafo proveniente da questo libro di Principi di Finanza Aziendale, dove commentava la crisi finanziaria del 2008. Sentite un po' cosa ci dice. Chi fu responsabile della crisi finanziaria del 2008? Parte della responsabilità va alla Federal Reserve, con le sue politiche di prestito facile. Anche il governo americano è colpevole di aver incoraggiato le banche a estendere il credito per l'acquisto di abitazioni a soggetti a basso reddito. Le agenzie di rating, d'accanto loro, sbagliarono ad assegnare la AAA a titoli garantiti da ipoteche che poco dopo entrarono in default. Infine, gli stessi banchieri si resero colpevoli della promozione e della rivendita di titoli subprime. I mercati finanziari degli Stati Uniti e dei paesi più evoluti funzionano quasi sempre bene. Ma come la bambina di cui narra una poesia, quando sono buoni sono davvero buoni, ma quando sono cattivi sono davvero terribili e durante la crisi finanziaria i mercati furono davvero terribili. Quindi sostanzialmente possiamo dire che i mercati finanziari sono fondamentali per la crescita economica di un paese e il più delle volte funzionano abbastanza bene, però purtroppo poi si innescono dei meccanismi che generano delle crisi finanziarie che poi spesso si tramutano in crisi economiche. E per capire ancora meglio quanto siano fondamentali questi mercati finanziari, la letteratura economica ci suggerisce che crisi economiche provenienti proprio da questi mercati finanziari siano molto più dure e molto più difficili da riprendere rispetto ad altre crisi provenienti da altri settori dell'economia, come ad esempio l'economia reale o ad esempio anche la stessa pandemia. Insomma, mercati finanziari in salute riescono a garantire non solo crescita economica ma anche una migliore ripresa dell'economia da stati di depressione. E quindi mercati finanziari sviluppati, anche se detto sinceramente all'interno della letteratura economica c'è un po' di difficoltà nel definire cosa significa esattamente un sistema finanziario sviluppato. Però noi possiamo ipotizzare magari che più gente c'è all'interno di questo mercato finanziario e meglio è. Insomma, un po' come gli eventi di GameStop dove innumerevoli investitori indipendenti sono entrati nei mercati finanziari e hanno fatto i propri investimenti. Cosa ne pensa in questo senso Jacopo Massei? Quanto è utile avere un mercato finanziario il più possibile decentralizzato? Che è vero che il mondo è cambiato e l'accesso al mondo finanziario è per tutti, ok? E questo potrebbe essere un bene o un male, no? Cioè se uno vuol fare complottista è un bene, che tutti possono accedere al mercato finanziario. Se invece uno vuol fare un po', se crede nella finanza etica, in quella vera, potrebbe essere un male perché hai tanta gente che potrebbe farsi del gran dolore. Perché io vorrei proprio vedere di quelli che hanno investito chi sta guadagnando e chi invece è rimasto incastrato. Quindi quello che dico io è sempre meglio affidarsi comunque un po' dei professionisti o se non si vuole cercare di diversificare e di entrare poco alla volta con dei piccoli pezzi di capitale. Anche il caso di GameStop, ad esempio, se uno avesse avuto l'illuminazione, è sempre meglio partire con poco. Se va bene, guadagni, anche se guadagni meno di quello che è, però comunque hai messo da parte qualcosina. Se invece ti va male, hai messo quello che puoi perdere. Però in questo caso qui non parliamo più di investimento, ma parliamo di scommessa, ok? Quindi se puoi scommettere puoi farlo. Questa è l'opinione di Jacopo Massei, soprattutto riguardo gli eventi di GameStop. Insomma, avere sempre più persone che partecipano ai mercati finanziari sicuramente può essere un incentivo allo sviluppo degli stessi. Ma bisogna vedere anche come partecipano queste persone all'interno dei mercati finanziari e appunto, dicevamo, come sia molto difficile determinare quale sia lo sviluppo buono o quale è lo sviluppo cattivo dei mercati finanziari. Sicuramente questa nuova entità, cioè degli investitori indipendenti che entrano nei mercati finanziari può generare sia delle opportunità per tutte le persone per rendere più democratico il mercato finanziario ma anche può incentivare dei comportamenti che potrebbero creare non pochi problemi all'interno dei mercati finanziari come ad esempio appunto far creare delle bolle che sopravvalutano determinati titoli azionari. Insomma, vedremo come si svilupperà in futuro tutta la situazione. Io comunque spero di avervi dato qualche spunto in più riguardo la questione. Ringrazio Iacuomo Masei e vi ricordo il codice sconto EconoV5 per potervi iscrivere a Gimme5 e iniziare a risparmiare e ottenere 5 euro di bonus. E in più, ovviamente, ringrazio gli abbonati che mi sostengono giornalmente in questo progetto. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Alla prossima!